salve a tutti benvenuti ad una nuova video recensione questa volta quest'oggi siamo in compagnia dell'arcos 80 titanium l'arcos 80 titanium è un dispositivo da 8 pollici con uno schermo ips da 1024 x 768 con appunto un dual core da 1.6 gigahertz come cpu per il resto delle varie specifiche che sono già state analizzate vi rimando all'unboxing dell'ispositivo che potete trovare sul nostro sito nella sezione apposita bene partiamo subito con il tablet e direi di partire subito dalle considerazioni sulla batteria allora il tablet a mio giudizio ha una batteria leggermente inferiore rispetto ad altri dispositivi cioè che significa inferiore nel senso che altri dispositivi ho visto che hanno durata maggiore diciamo questo dispositivo con un uso un uso medio intenso direi che all'incirca possiamo coprire 4 5 ore direi che il problema principale però si trova più che altro nello stand by perché il tablet in stand by a mio giudizio consuma troppo rispetto agli altri competitor detto questo il dispositivo però è davvero valido e andremo a vederlo subito in azione andiamo subito su internet a vedere un po come funziona il brother stock da appunto di asus e di arcos allora andiamo subito su the verge the verge vediamo un po se mi esce ecco qua the verge vediamo un po come il caricamento di diverge infatti apriamo anche la nostra pagina prova cellula ri bene allora devo dire che il tablet dal punto di vista della navigazione internet devo dire che si comporta davvero bene non abbiamo particolari problemi di pinch to zoom di pan e quant'altro quindi il tablet da questo punto di vista secondo me passa a pieno i voti anche andando ora a cliccare su una notizia vedremo come il tablet carica abbastanza rapidamente il sito di the verge che comunque in genere è abbastanza pesante e ecco è già arrivato e viene reso il rendering viene fatto abbastanza rapidamente e facendo il doppio tap sul sull'informazione cioè sulla sull'articolo viene reimpaginato abbastanza bene e in modo abbastanza rapido quindi un browser che funziona davvero bene per quanto riguarda invece il nostro sito anche il nostro sito come possiamo vedere funziona abbastanza bene andiamo in questo caso ad aprire l'unboxing proprio dell'arcos 80 titania quindi di se stesso in sostanza ecco batteria rimanente quasi scarica era al 15 per cento di botto e crollato alla al 4 per cento era questo un po il problema che dicevo io mi sembra ecco facciamo anche una ricarica praticamente in diretta e secondo me era questo un po il problema volevo farvi vedere questo cioè farvi partire proprio la video recensione dal 15 per cento di carica e farvi vedere come praticamente il tablet partendo dal 15 per cento in quanto 5 minuti che abbiamo fatto le nostre prove le nostre video recensioni praticamente è crollato al 4 per cento e mi dice mettete metti a caricare il dispositivo ecco questo secondo me è un po un problema la batteria non mi ha secondo me non mi ha proprio soddisfatto specie quando si arriva sotto al 20 per cento 13 14 quindi 16 a 7 la batteria vedo che crolla abbastanza rapidamente probabilmente facendo più cicli di carica questo questo fatto potrebbe anche stabilizzarsi però sono già stati fatti 3 4 cicli di carica e sinceramente il positivo non è migliorato in questa particolarità bene se il browser abbiamo detto funziona allora abbastanza bene anzi direi molto bene cosa possiamo dire invece della fotocamera ecco la fotocamera a mio parere diciamo che fa delle foto discrete delle foto discrete non sono eccezionali secondo me c'è un po di rumore video questa macro quando andiamo a zoomare vediamo un po che i dettagli vanno a perdersi però diciamo che da un tablet possiamo anche aspettarci questo c'è da dire però che rispetto ad altri dispositivi la videocamera non è così performante ecco ecco questo invece è un video che abbiamo realizzato con l'arcos bene la fotocamera l'abbiamo vista adesso andiamo a vedere un po la camera come come si vede nel frattempo inseriamo la micro sd per andare qui sopra si inserisce micro sd qui abbiamo il cavo sb mini sb questo il mini hdmi e adesso andiamo inserire la nostra micro sd perché andremo a vedere anche alcune foto di test e così facciamo una recensione più completa ecco questo è il software della camera praticamente abbiamo qui il nostro zoom possiamo scegliere fotocamera frontale fotocamera non frontale quindi quella posteriore e qua abbiamo le impostazioni davvero sono abbastanza poche dimensioni di foto 2 megapixel inferiori modalità scena automatica bilanciamento del bianco e basta e per quanto riguarda il 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 video diciamo che stiamo lì se vogliamo rallentare il video se vogliamo fare le faccine automatico direi che siamo davvero a livelli abbastanza pratici per quanto riguarda la videocamera ora possiamo utilizzarlo anche da nell'altra posizione vediamo un po come anche ci si trova bene fatto questo direi andare a parlare delle mail le mail vengono viste direi in modo buono e andiamo a vedere queste mail del grandissimo galeazzi hanno questo sì sì questo è di youtube che mi dà la gli ultimi aggiornamenti dove c'è appunto la recensione di andrea galeazzi e niente devo dire che il tablet si comporta davvero benissimo dal punto di vista delle mail e anche ci siamo perso vedere anche come si comporta invece la tastiera ecco la tastiera direi che è buona i tasti sono grandi si scrive abbastanza bene ecco magari scrivere tenendo il tablet in mano è un po più difficile visto che i miei pollici non riescono ad arrivare per esempio alla g devo fare a questa fila quelli tasti devo fare un po di sforzo magari è smettendolo invece in verticale ciò resta più facile e e permette una scrittura anche più rapida bene detto questo direi che per quanto riguarda il client mail e per quanto riguarda il il discorso della scrittura da tastiera non ci sono particolari problemi e allora a questo punto direi di andare a vedere come funziona un gioco come asphalt così vediamo anche un po come si vede lo schermo e poi andremo a vedere anche le nostre foto classiche di test allora stiamo partendo con 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 asfalt vediamo un po come va a comportarsi il tablet allora continuiamo partita veloce eccoci che siamo pronti a partire allora abbassiamo un po il volume ok allora diciamo che il il tablet non ha particolari problemi non un lievissimo lag iniziale ma davvero nulla di particolare si gioca davvero abbastanza bene e anche lo schermo devo dire che gode di una buona visibilità quindi direi che dal punto di vista ludico non abbiamo particolari problemi e anzi devo dire che lo schermo anche abbastanza ampio di 8 pollici ci permettono anche di godere di una maggiore visuale del del gioco bene allora a questo punto deve andare appunto nella nella nelle nostre foto di test e le nostre video di test per vedere un po il tablet allora abbiamo praticamente qui una foto colorata si vedono davvero si vedono davvero bene i colori lo schermo secondo me riproduce fedelmente forse sono leggermente leggermente sbiaditi i colori rispetto ad altri dispositivi che ho testato ultimamente ma si vedono abbastanza bene questo è un sfondo bianco con una scritta nera devo dire che infatti i test su questo dispositivo anche per quanto riguarda il browser si vedono abbastanza bene si vedono benissimo la lettura è comoda e quindi tutte queste foto direi che sono di buon livello questo è uno sfondo nero con scritta bianca devo dire che non ha particolari problemi questo è un 1080p vediamo un po come viene riprodotto direi che non ci sono problemi proviamo a spostarci vediamo un po se il video ci segue si direi che i 1080p si vedono e questo è molto importante visto che nel lato superiore c'è una porta mini hdmi se io voglio collegare il tablet al televisore e quindi utilizzare un per esempio un film in 1080p che abbiamo preso da varie store online allora di conseguenza questo è una buona cosa che vengono riprodotti naturalmente vengono riprodotti benissimo anche i 720p senza alcun problema i 480p anche saranno riprodotti bene quindi senza che ci soffermiamo questo sono i file flv e anche questi come potete vedere vengono riprodotti senza alcun problema anche spostandoli non ho problemi bene per quanto riguarda i dvx e gli mkv purtroppo in questa situazione abbiamo dei problemi i dvx non vengono anche visti i mkv sì ma non vengono riprodotti bene quindi direi allora di andare a vedere in questo due due cose la prima sono le applicazioni che l'azienda l'arcos va a inserire sul tablet abbiamo vabbè angry birds che direi un un must have come si dice per una cosa da da avere per android in sostanza il gioco classico con la quale ha fatto le fortune android e poi abbiamo l'arcos remote che che praticamente permette di ci entriamo praticamente di associare questo dispositivo a altri dispositivi android poi l'arcos video praticamente una raccolta di video e film che sono presenti sul dispositivo più praticamente abbiamo la possibilità di andare a visualizzare altri video di di base di test inseriti dal dispositivo poi abbiamo invece brief me che invece questa è carina praticamente è un aggregatore di informazioni riguardanti social network e quindi può essere settato a piacimento poi abbiamo questo una sorta di archivio una sorta di file explorer di gestione file proprio dell'arcos davvero funziona molto bene abbiamo il flash player settings che può essere settato quindi per vedere anche i contenuti in flash sul browser non tutti i dispositivi ce l'hanno poi abbiamo questa è un'altra applicazione che a me è piaciuta molto monitor di sistema ci permette appunto di vedere quale applicazioni sono in esecuzione di chiuderli tutti di chiuderne uno di vedere anche gli avvisi di disinstallare insomma è un è un'applicazione direi molto molto utile per il resto poi abbiamo le cose classiche qualche altro giochino zigno per la musica e per altri acquisti e niente più direi quindi di concludere la nostra la nostra videoprova con una con un sottovedere nelle impostazioni come viene suddivisa la memoria abbiamo 6.36 giga di disponibili e io le ho occupate una parte quindi 4.68 sono appunto i disponibili e poi andrei un attimo a vedere anche il software installato e il 4.1.1 di android bene fatto questo andrei a fare l'ultima prova cioè l'usb host e vedere vedere un po' come si come si comporta il tablet in questa situazione andiamo a collegare la nostra chiavetta aspettiamo che la chiavetta venga letta e vediamo se viene appunto riconosciuta ecco mi è uscito usb is mounted quindi che l'usb è stata letta e allora a questo punto direi andare a visualizzarne il contenuto in file e ecco vedete c'è usb che mi permette di andare appunto nella chiavetta quindi buono anche il fatto che vengano riconosciute e viste le chiavette allora cosa direi il dispositivo si trova ormai a un prezzo diciamo intorno ai 130 euro diciamo più o meno questo è il prezzo del dispositivo attualmente e devo dire che per avere uno schema di 8 pollici per avere uno schema comunque di di una buona fattura il ps mi sembra anche abbastanza luminoso e definito per avere un dispositivo che comunque ha una certa linea anche estetica davvero carina e comunque un dispositivo anche che non scricchiola che non ha particolari problemi di costruzione direi che il prezzo è più che sufficiente e c'è più che che corretto e anzi un buon rapporto qualità prezzo per quanto riguarda il dispositivo certo l'unica epec è forse solo una fotocamera un po' sotto livello e la durata della batteria però è pur vero che non utilizziamo mai un tablet diciamo per fare foto chissà quanto importanti o professionali in genere e la batteria può essere ovviata se comunque non abbiamo bisogno di autonomia magari per tutta la giornata del dispositivo detto questo quindi io direi di chiudere la nostra videoprova e vi mando al Versus che verrà fatto poi con l'altro dispositivo che abbiamo testato in questi giorni il Galaxy Tab 3 dove si potranno vedere alcune importanti differenze e alcune importanti anche alcune importanti cose in comune tra i due dispositivi che hanno un costo di diciamo molto differenti c'è un costo di 100 100 euro e qualcosa di differenza che però bisognerà vedere poi in quel Versus vedremo se davvero ne vale la pena spendere questi 100 e passa euro in più per il Samsung Galaxy Tab 3 quindi vi lascio ai nostri futuri articoli sul sito vi rimando a questo articolo che faremo sul nostro sito introducendo anche le pagelle e le foto che sono state scattate con il dispositivo e vi auguro di rivederci ancora una volta su provacellulari.it ciao a tutti grazie